Quella che vi vado a leggere oggi è una preghiera potente di liberazione dal male e da tutte quelle persone e situazioni particolarmente negative. Vi lascio il testo completo della preghiera nella descrizione sotto il video, così a chi dovesse servire lo avete. Ve la vado a leggere. O Signore, Tu sei grande, Tu sei Dio, Tu sei Padre. Noi Ti preghiamo per l'intercessione e con l'aiuto degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, perché i nostri fratelli e sorelle siano liberati dal maligno, dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni. Noi Ti preghiamo, liberaci, o Signore. Dall'odio, dalla fornicazione, dall'invidia. Noi Ti preghiamo, liberaci, o Signore. Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte, noi Ti preghiamo, liberaci, o Signore. Da ogni pensiero di suicidio e aborto, noi Ti preghiamo, liberaci, o Signore. Da ogni forma di sessualità cattiva, noi Ti preghiamo, liberaci, o Signore. Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva, noi Ti preghiamo, liberaci, o Signore. Da ogni forma di maleficio, di fattura, di stregoneria o da qualsiasi male occulto, noi Ti preghiamo, liberaci, o Signore. O Signore che hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, per l'intercessione della Vergine Maria concedi di essere liberati da ogni maledizione e di godere sempre della Tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fatemi sapere se la conoscevate, se vi è piaciuta questa preghiera. Ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio di luce a tutti.